Giorno, 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 Giorno. Giorno, Giorno. Giorno, Giorno. Giorno, Giorno, Giorno. Giorno, Giorno. Giorno, Giorno. Giorno, Giorno. Giorno, Giorno. Giorno, Giorno. 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 una sana, una sana informazione, ci sono oggi un benvenuto alla televisione australiana, un altro, un altro, un altro, un altro benvenuto a una più sprizzate democrazia, ma tutti poi siete qui, con noi, a Rosina, a Rosina, a Rosina, a Rosina, non è venuta la BBC, non è venuta la CNN, non è venuta a quello che dice che riprende, che è conosciuto, ma risciallo, non so che è venuto così. E adesso c'è anche la RAI, si stanno muovendo, hanno paura, hanno paura, avete adesso paura, ma noi vogliamo, noi vogliamo tranquillizzare, noi vogliamo tranquillizzare perché le nostre armi non sono le stranche andare a spassare vetrine, le nostre armi sono scelte in un piazzo a mettere una firma, prenderli e lasciarli, e la nostra armi principale è prenderli per il cuore. I italiani e italiani, noi hanno cercato di tutto, hanno cercato di tutto per mettere di gianita a questa piazza, io giro la bandiera, per favore ragazzi, tirateli giù, non è una piazza da bandiere questa questa, questa è una festa del 25 di aprile che appartiene a tutti gli italiani di con o senza bandiera. Qual è che è la bandiera? Hanno cercato di tutto, hanno cercato di tutto, di tutto, cercando di gianita di mettere una piazza contro l'altra, invece di venire gli amplificatori saranno girati uno contro l'altro, abbiamo gli stessi amplificatori. Volevano farci diventare come Don Caprino e Pettone, hai capito? Don Caprino è parlato, Don Caprino è girato le campane per non fare sentire che invece voglio dire a chi si è opposto a questa manifestazione, che siano tutti i pettoni e tutti i don Caprini. Volevano farci diventare come Don Caprino e Pettone. Ma è giusto, non condivide questa manifestazione per la libera informazione. È chiaro che non condivide, perché sì, se la libera informazione ci fosse, tutti saprebbero il livello intellettuale di vostra sfida. Tutti saprebbero? Grazie. Un altro che si è opposto tra questi filosofi che vengono fuori sempre dopo, i lavossi postbattati o uomini di cultura. Un altro uomo che io leggo e conosco, perché ce l'ho avuto contro in diverse cause, è l'avvocato della FIA, Rans, 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 Rante, Steve Davis. Oggi, c'è uno che si chiama così, guardate, io avevo un avvocato che camicia sempre nella parte delle grandi società. Io ce l'avevo contro in una causa, non è proprio più di quale, e io, il mio avvocato si chiamava Pino Cipulino, Cipulino, Pino Cipulino, lui franno, c'è grande questo stile. Il magistrato mio non l'ha fatto neanche in cara del suo infizio. Bene, Rans, Steve ci ha abbracciato, ha abbracciato il valore della resistenza, dell'onestà, della libertà. Rans, Steve li ha abbracciati ad essere, perché circa un mese fa, ecco perché non vuole manifestazioni sulla Liga, la circolazione dell'informazione, perché qualche mese fa, lui che è avvocato della Isi, la finanziaria della FIA, lui insieme a Gabetti e insieme a Marone, il primo escano della FIA, hanno sacchiggiato la FIA attraverso la loro finanziaria, facendo un equity swap, che ha un altro modo di ruotare, che deve più ruotare, e fare equity suo. E allora, loro che cosa hanno fatto? hanno costituito la classica società, finta, il rilusso il mondo, e attraverso la loro società, attraverso la Meri vince la banca, hanno comprato azioni della loro società, sempre tutto interno, non hanno tirato fuori una mila, hanno giocato, hanno ripasso, hanno comprato le azioni a 5 euro, 5 euro al metro, mentre un piccolo azionista la poteva comprare, una azionista a 8 euro, e la differenza l'hanno intruicata, come famiglia, agli anni, con le buste paga, degli azionisti e degli operai, questo è uno che oggi, non vuole l'informazione, basta un culo! Non mi devo la dare, non mi devo la dare, ecco che mi faccio prendere la mano, ecco, ho fatto un corso, ho fatto un corso di marattina, per non parlare più male, voglio parlare sotto voi, allora, stiamo facendo una cosa straordinaria, che avete iniziato voi, hanno iniziato i ragazzi, l'8 settembre, l'8 settembre è successo qualcosa di incredibile, ci sono materializzati un milione e mezzo di persone, per far sì che, donne e vecchi bambini, andassero a votare una legge popolare, da l'8 settembre signori, ti sembra che non sia successo niente, da l'8 settembre adesso, e adesso all'inizio è successo tutto, pari signori, se li fa partiti, non ci sono più, tutti! quelli che sono ridosti, non sono neanche più partiti, sono una congrega d'affaristi, noi siamo andati a votare, penso che mi girano, mi girano, non devo parlare di me, cosa non posso dire, mi girano in tante astrelli, perchè? 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 siamo andati a votare, delle elezioni, assolutamente anticostituzionali, assolutamente, irregolari e fuori lecce! e noi abbiamo, il Presidente della Repubblica, Morseo Napolitano che dorme, mi dorme, si fa i bisogni di Polizia e Monica, abbiamo fatto un referendum per cambiare la legge elettorale, e i referendum siamo andati a fare prima delle elezioni, non dopo! e poi mettiamo, e poi mettiamo, mettersi, mettersi così atti qua, dopo che è entrambata! e allora Napolitano dovrebbe essere il Presidente degli italiani, non il Presidente dei partiti, non ci sono più dei partiti! siamo andati alla tele, una, siamo andati alla tele in votazione senza poter scegliere il candidato, violando il principio sacro della Costituzione che il popolo è sovrano, non abbiamo scelto il candidato, non abbiamo scelto i partiti perché si sono scusi tra loro, non abbiamo scelto il programma perché il programma di testa d'asfalto, che mi scelto il po' di testa d'asfalto, si può asfaltare adesso questo, che lo giuro, l'ho visto, si fa, gli dà anche quello per il monte, l'ho visto che pioveva l'unica sui carri, e troviamo l'intesa d'asfalto ed il tocco giusto è identico siamo andati a scena a mettere una croce cominciamo a portare con le mie pesche perché non abbiamo conosciuto e non conosciamo e troviamo di questa croce abbiamo mandato in Parlamento 70 70 di nuovo precipitati 70 senza di voi non sapete niente mi sento di fare un distinguo Maroni ha preso un traggio al profilo ufficiale sulla sentenza si legge ha preso 4 mesi e 20 giorni per un traggio al profilo ufficiale lui in una risa con la polizia che invadeva il suo ufficio ha avuto una contazione gli hanno rotto il seto masale prima di carriere in terra ha avuto la pronta energia la grande energia che il primo poliziotto che gli passava davanti gli ha preso la caviglia e gli ha mortificato perché è stato condannato e l'aver mortificato la caviglia al poliziotto che è stato condannato e sarà il nostro nuovo ministero ministro degli interni il ministro degli interni che è sempre in mezzo al pericolio e il signor ministro degli interni immaginate che dico farà per avere una caviglia di un poliziotto bisognerà mettergli la musea nuova allora se uno che morsica la caviglia di un poliziotto diventa del riso degli interni allora mi ha telefonato un black bloc dei ziotto di Genova mi hanno detto io ho mortificato un comito a un maresciallo voglio diventare presidente della Repubblica noi ci sono queste cose vere e gli australiani al Jazeera al BBC credono che sia un comico che vi potesse divertere se avete dei pregiudicati bene non avete notato che i reati e i delinquenti i pregiudicati sono diminuiti perché sono diminuiti abbassali qua per favore sono diminuiti i partiti allora vediamo un attimo perché siamo qua siamo qua per fare una cosa secondo me straordinaria non siamo qua a sentire solo uno schettacolo non siamo qua solo a divertirci a sentire musica a scambiare i segni di pace e a prendere il culo al prossimo siamo qua per mettere una firma tre firme in tre referendum questa volta non è una legge popolare l'8 di settembre 350.000 firme raccolte in un giorno sono state messe in un cassetto o sono state messe in cantina vi giuro in questo momento che ritireranno fuori quelle 350.000 firme e se no se no gliene porteremo 1 milione e mezzo questa volta qualche costituzionalista che diranno non sono valide non sono nei tre mesi no qualche costituzionalista si troverà sicuramente qualcosa forse la corte costituzionale che dovrà decidere in questo referendum ce la pagheremo le firme nel marzo 2009 dirà che non sono valide ma lo dirà nel marzo 2009 io sono qui adesso voi siete qui adesso è la mia coscienza che mi fa parlare adesso non me ne sarebbe assieme qualsiasi servo del potere mi elimina la valentità di 2 milioni e 30 di persone che sono uscite di casa a mettere una firma i referendum sono tre avete visto quelli che si sono incazzati del del video di settembre mi sono stati mica i politici questi camerieri questi giornalisti si sono incazzati questi servitori serviti servetti i vari iriota i vari mazza che andavano in televisione loro incanate mazza col segno della pustola perché adesso c'è testa d'asfalto che ma te ma te sapete che cazzo faranno ad arco le nuove le visti insieme testa d'asfalto che faranno così gli italiani gli diranno fette di polenta e mi dà la tru la tru tanti due troie tanti due troie ti dà due senatori e ci sarà il cantante del paletano che dirà qui si la cosa grande bene bene siamo stufi siamo stufi siamo stufi stufi le cose che non si sanno sono le uniche cose vere noi siamo tenuti in un coma farmacologico da queste televisioni e da questi giornali sono sette televisioni e tre giornali se andate nel loro CDA e guardate qui c'è la proprietà di una rete o di un giornale che fa opinione oggi ci sono tutti c'è l'Adri quindi le banche ci sono dentro le banche più potenti che abbiamo in Europa col banchiere più potente d'Europa il nostro banchiere più potente lo sapete tutti come si chiama pluriconvernato per banca rocca non frago lenta ma per dirci parlo di Geron i figli i nipoti dentro i CDA dei giornali ci sono le banche ci sono la confindustria ci sono gli industriali con le pezze nel culo ci sono i partiti politici c'è il media c'è il testo d'asfalto sono evidente che dicono quello che devono fare che lefonano i giornalisti e dicono chi devono intervistare dicono quali sono i programmi che sono le scalette tutto questo inizierà a finire oggi ce la vedete dovete mettere tre film mi arrivano delle notizie straordinarie noi qui c'è tanta gente mi aspettavo qualche cosina di tutta per la questura sarete 300 350 vedete domani i giornali saranno divertiti ma voi c'è la parte a voi che non meno non vi prenderanno per il culo tre film tre film tre film di giugno qui c'è pieno magari per me per piotto per i ragazzi per le opari per altri ma le cose confortanti che stanno arrivando in questo momento sono straordinarie siamo in contatto con 450 piazze d'Italia con 15 piazze all'estero da New York a Zengler da Tocchio da Parigi e le notizie sono Milano c'è una fila di un chilometri a terzo Genova c'è una fila Palermo c'è una fila Napoli c'è una fila tre fila tre fila una la prima togliere il finanziamento statale ai ai editori e ai giornali guardate che le cose vere non si sanno noi finanziamo con le nostre tasse giornali come la Confine Bruse come solo 24 ore il Corriere della Sea giornali c'è ancora peggio perché 19 milioni di euro che prende il sole 24 ore in deputazione di tasse accettazione sui telefoni sui boli sulla posta sulla carta il giornale del liberismo il sole 24 ore il Corriere della Sera il giornale del libero commercio della libera domanda sono giornali statali pagati da noi basta un miliardo di euro vanno a finire a questi giornali di elenco secolo d'Italia 3 milioni di euro la pagania 4 milioni di euro l'unità 6 milioni e 9 di euro l'unità è quella che ci ha messo oggi ieri in prima pagina contro la manifestazione noi siamo contro i valori della resistenza l'unità loro sono contro di noi hai capito? l'unità che prende prende 6 milioni e 9 i soldi statali che prende non per vendere i giornali che è stampare le stampa 120 mila ed è rimborsata per 120 mila le 20 60 mila gli altri 60 mila vanno in discarica e riempiamo le discariche ci rinforziamo la valla nostra per dare i soldi e per i palacuri lì Europa 3 milioni e 100 liberazione comunista 3 milioni e 7 libero 5 milioni e 5 Repubblica 12 milioni Corriere della Sera 25 milioni di euro Salve di 4 ore 18 milioni di euro Salve di 6 milioni di euro Salve di 1 la stampa 7 milioni di euro Salve di 1 il foglio il foglio il foglio 3 milioni e mezzo Salve di 1 ha fatto una tournée politica tra di mezzo tra di mezzo con la barra ha fatto una tournée ho fatto 3-4 cose poi ho dovuto scappare perché perché finalmente nelle piacce c'era una vera democrazia finalmente finalmente non racconti più conne e poi Ferraro è stato contestato con delle piccole cose gli tiravano dadetti di prosciutto gli hanno tirato un uovo un uovetto solido che gli è piccato nel capò tutti i politici solidali grandi politiche grandi democrazia hanno telefonato anche a me che era solidale con Ferraro hanno detto guardi io sono solidale ma non con Ferraro con l'uovo perché pensa cosa deve aver patito l'uovo un attimo prima che si spiassicasse in quel container di 20 tassi per la città il riformista 3 milioni e 4 il corriere mercantile 2 milioni e 6 il 26 4 milioni e 4 acqua acqua il romagna 2 milioni e 250 acqua il messaggero di San Antonio fare vela perché se non se lo paga il baffetto da re chi paga allora mi dicono che non è giusto non è giusto perché togliere le sovvenzioni siamo in un libero mercato sì o no io che è una nazione libera con una bella informazione vorrei che in Italia nascesse un giornale pagato da chi la legge porta seconda firma seconda firma abolire l'ordine dei giornalisti l'ordine hanno l'ordine scusi io vorrei scrivere un petto ma lei è scritto all'ordine dei giornalisti come se fare giornalista bisogna essere scritto a una tasca pagare una retta e poi ci sono quelli sopra che dicono che sei o non sei se puoi scrivere se sei pubblicista questo è il detto di Enaudi ve lo faccio leggere Enaudi cosa diceva dell'ordine dei giornalisti unici al mondo siamo la vera ordine dei giornalisti fondato nel 1925 da Bussolini per tenere l'entrata di terra ai giornalisti eccolo bene Enaudi si diceva che non esiste e non può esistere l'ordine dei giornalisti c'è l'articolo 21 della Costituzione l'informalione deve essere libera con la rete chiunque giornalista chiunque può scrivere chiunque può leggere la rete li farà fuori tutti lo stesso se deve essere qualcuno che pagando ti dice che sei giornalista ma gli faccio pagare allora facciamo anche l'ordine dei poeti io dico il cuore cuore sono poeta devi scrivere ti pagare una rete e poi mi diceva come sei poeta ma il prossimo anno si paghi una rete via le cose del passato bisogna permettere mettere un attimo in campina e pensare un po' al futuro se vogliamo un paese giovane veloce dinamico basta fare cose del fascismo degli agimenti interventi basta terza firma terza firma è la più importante di tutti perché mi interessa non c'è gente che va a firmare firma ma non capisce e io li capisco perché non capiscono quando si chiamano parli abolizioni della legge Gasparri e vediamo Gasparri già guardarlo con questi occhi come il tenente Colombo se lo fissi ti viene la radio in tina la legge Gasparri è un affronto alla democrazia e alla libertà la legge Gasparri fa sì che un nano con capelli d'asfalto un ologramma un ologramma che non resiste una salva e viene giunata dal partito democratico perché la conta e la porta la legge Gasparri permette che un nano un ologramma un alico di un nano possa avere in un paese civile tre televisioni e venti giornali di essere presidente del Consiglio ma immaginate con l'Opama che diventa presidente degli Stati Uniti che è proprietario della Fox dell'EBC e dell'IbS ma immaginate non resiste al mondo le frequenze le frequenze le frequenze guardate in alto guardate in alto guardate in alto quelle sono le frequenze vi dite qualcosa sono quelle le concessioni le lettere passano da lì le lettere non può essere un privato le lettere infatti è data in concessione perché le frequenze sono dello Stato nostre e allora e allora Truffolo è riuscito a farsi dare tre frequenze da uno che poi è scappato che era Craxi con le tre frequenze ha fatto tre televisioni ha tirato su tanta pubblicità da diventare miliardario si sarebbe riuscito anche mio figlio e tiro di otto anni poi poi si è comprato da Mondadori corrompendo un giudice attraverso una sentenza definitiva del nostro dito Previti che è quello che l'ha preso nel cuo lui per aver corrotto un giudice mentre testa d'asfalto ha preso corruzione ma semplice semplice perché l'ha già formato prima perché è semplice bene la legge Dastari dice dice questo c'è stata una sentenza almeno tre l'Unione Europea si sta condannando si sta condannando perché evadiamo le sue direttive l'Unione Europea ci sta dicendo che se entro la fine di questo mese Rete 4 non va sul satellite e prende il suo posto perché rispetta il diritto da sentenza costituzionali di Europa 7 noi saremo in mora e comincieremo a pagare e paghiamo noi il posto di fede state a sentire pagheremo 300 mila euro al giorno al giorno con effetto retroattivo da gennaio 2006 fino alla fine di questo mese pagheremo 330 milioni di euro noi per mantenere Emilio Fedeli magari un calcio del culo ma è sul sotone ho detto finale questa parte una sede tanto consiglio aiutare allora io voglio voglio per i miei figli per i miei nipoti che ci sia in Italia una televisione come questa come l'australiana come la BBC pagata da chi la guarda non pagata da chi strani una televisione che metta il suo magazzino a disposizione degli intenti perché lo sapete cosa sta succedendo unica televisione ma non lo fanno neanche in China neanche in China quando un politico va a farsi intervistare e ci sono quelle interviste che vi rendete conto immediatamente c'è quella di quella sottospecie umana che è Riocca che ha intervistato che è stata fatta mi ricordate che è stata fatta che mentiva diceva gli altri se ne è andato perché voleva la sua liquidazione e questo verne questo questo perruccio questo ma non ma che sono state così niente lo sappiamo ma la cosa da vomitare è Riocca che è rimasto lì come un cagnolino in silenzio e allora è successo questo che la rete fa giustizia di quella televisione lì la rete fa un planitorio si prende il filmato si mette in rete e poi si è abbinata una dichiarazione ultima che aveva in vita di Riocci che ha detto mi hanno mandato via con un'altra comandata con il genuto di ritorno hanno paura della verità hanno paura della verità ecco perché ecco perché tutti i filmati della l'arte interviste da politici sulla rete vengono tolti dalla Rai vengono tolti dalla Rai dei diritti d'autore tu un'intervista di un politico che lo paghiamo noi fatto da un giornalista che la Rai che lo paghiamo noi detto un astuto della Rai che lo paghiamo noi tu mi prendi l'intervista e perché voi diritti d'autore che siamo noi gli autori e poi la verità ecco l'intervista la BBC in qualsiasi cosa del loro magazzino vai su in fuori sulla rete viene già già gratuito io voglio una televisione pubblica senza pubblicità senza partite senza presidenti del consiglio che telefono direttori di rete e vi dirò ti do due proie in calma di due sanatori voglio che l'altra gente bene le cose che sappiamo le cose che non sappiamo sono vere ma quelle che sappiamo non è che siano false sono simili sono tutte le notizie loro hanno combattuto nella piazza di là alla fine di questa cosa andremo a trovare perché si merita più fatte sì ma si sono spassati c'è cosa andremo in piazza a castello ma abbiamo combattuto loro ancora il massifascismo noi abbiamo dobbiamo combattere con un altro tipo di fascismo che c'è il fascismo dell'informazione è un fascismo che non lo identifica un fascismo che non lo vedi che ti sorride che fa vedere delle tigre qualcuno così un fascismo che ti prende in giro è questo fascismo che è molto più difficile da vedere loro noi siamo un paese nonostante gli scorsi che hanno fatto e oggi è la festa della la festa del 25 aprile è la festa della semilibertà semilibertà perché non siamo neanche liberi e adesso vi faccio un esempio di com'è tiro giù che com'è l'oggi l'informazione ora noi abbiamo quelli che siamo liberati che si sono talmente trovati bene da noi che sono rimasti parlo degli americani e dell'onato parlo dell'onato non voglio parlare comunque sull'inizio di sinistra di destra voglio parlare da cittadino informato e voglio darmi voglio darmi un'informazione solo noi siamo una porta aeree nella nave siamo una piattaforma e allora onestamente vi prego onestamente vi faccio una domanda secondo voi quante basi nato ci sono in Italia dicami un numero perché chi è 2 chi mi dà 5 chi mi dà 8 7 chi mi dà 10 chi mi dà 12 chi mi dà 12 te lo dico io qualche sala e poi voi mi porterete e mi direte è impossibile te lo dico io 113 113 basi che sono presenti in quasi tutte le regioni italiane tra le due la Val d'Aosta e la Bruzza forse perché non capivano la lingua parlano come 113 basi ecco e io aprendo una televisione tedesca un giorno vedo un servizio in tedesco me lo faccio tradurre e vengo a sapere che vicino a casa mia Ghevi Brescia e Vaviano in Veneto solo in quelle due le basi lì ci sono 90 testate nucleari ho parlato con SIGA con l'Iberessa e SIGA con l'Iberessa ma in potenza dove vado a dire SIGA bene abbiamo chissà quante testate nucleari però noi abbiamo anche una grande Costituzione che aveva anche previsto questo e siamo in SIGA infattiare anche quella e l'articolo ombiti della Costituzione me lo deviare sullo schermo l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa all'unità degli altri popoli e dove vengono le risoluzioni delle forti legge internazionali che assente in condizioni di parità all'indicazione di sovranità promuove favoluzione le risoluzioni internazionali e rivolge alla pace non alla guerra e quindi cosa vogliamo fare? sono andata per noi che vogliamo fare ampliare basi a Vicenza ampliare un'altra base ne abbiamo 100 non ci basta e allora io finisco qui mi riposo un po' ho la parola alle persone senza voce vedete qui non sono venuti grandi artisti non sono venuti cantanti non sono venuti giornalisti tranne uno che è sempre il solito che chi verrà questa manifestazione non sono venuti non è venuto non è venuto non sono venuti gente importante perché questa è una manifestazione che si parla di libertà e pochissime persone nel mio campo nel campo dello spettacolo dell'informazione e della cultura oggi sono libere perché se vengono qua si giocano in cura il posto di lavoro e non è venuto ricapisco 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 ma non ci mancate non ci mancate ma siamo loro e oggi e allora ecco perché nascono comitati associazioni democrazia dal basso cittadini informati un cittadino informato non lo prendi più per il culo è questa la situazione è questa lo prendi per il culo quando è buio quando è incomodo quando non sta ma sa cosa è stagliata allora sentiamoci che abbiamo una boccata di acqua fresca per tutti una boccata di acqua fresca e sentiamoci un'associazione con l'Italia che si chiama Calvolini venite su perché notano che la libertà che la loro terra vicenza venite su ci siete? Calvolini venite stai solo tu stai solo tu grazie sono le persone che convertono e non vengono le vostre grazie per la vostra pensione grazie grazie alza 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 aspetta aspetta potreste accendere il microfono già lo usai con l'Italia e li accendono se non potremo parlare così e poi in amore perché potete accenderlo no? vabbè quello funziona state tranquilli ragazzi insequalità io l'ho visto ma che parte della storia che se fate queste cartellette si distruggono ma l'hanno troppo ve lo detto vorrei innanzitutto ringraziare per avermi dato l'opportunità di poter raccontare le difficoltà che tutti noi attivisti in onda armonica abbiamo per far conoscere agli italiani e ai vicendini stessi la catastrofe che inconde su licenza le forze armate americane vogliono trasformare licenza nella più grande base militare statunitense in Europa riunendo la 173 esima veglata avio trasportata cioè la prima linea d'attacco si tratta di circa 20.000 persone tra militari civili e familiari tutto ciò nel tessuto urbano di un centino per fare ciò voglio costruire la seconda base dopo la prima chiamata all'erba edale costruita in piena guerra fredda negli anni 50 una colata di cemento di 600 metri lunghi e vivarenti giusto per fare un paragone a 1900 a parca venti di 100 metri quadri utilizzando un'area di 550 milliametri quadri impargo due edifici da adatterli per ricostruirli secondo le loro necessità e un'altra è un'area di area verde tutto ciò nel 2008 dopo 19 anni dalla caduta del muro di bambino noi non solo non vedremo cadere il muro della caserma edere ma ne vogliono costruire un altro in città lo vogliono fare a 2 chilometri dalla gafinica palatiana centro cittadino e patrimonio un estero la capitale stessa degli stati uniti in osito e molti ditti degli stati del sud stati uniti sono costruite in stile palladiano riporto una frase sconvolgente per noi di incentivi pronunciata dal comandante dell'attuale caserma edere generale e equit non preoccupatevi per l'impianto ambientale perché la nuova base sarà costruita in scritte palladiano sarà costruita sopra una falda acquifera tra le più importanti dell'uomo che compisce acqua a mezzo veneto a circa un chilometro ci sono di risortire droga protetta in una città già super inquinata terza in Italia per molte risortive pure c'è una cittadina di 110 miliardi tanto dove la qualità della vita si trova gli ultimi posti in Italia già carente per gli standard europei circa un milione di ventre di verde pubblico si vuole condizionare la città alla presenza insisto nel tessuto un paro di due parti militari straniere ma super contente naturalmente le basi da mure le istruzioni blocchi delle camere da un altro come fossero in una città veramente in guerra all'interno dell'età ci sarà un esercito straniero che per quanto acuto può decidere di produrre madri ingiuste e non condivise dall'Italia vedi da quella dell'unità grazie grazie quindi quindi è una nostra cosa la mia fede è anche questa cadenza che è della cosa che sono già invece a di fare in città in avanti allora vuoi chiudere e chiedere un'aiuto noi chiediamo vicini che cosa farete nel prossimo per tamponare questa cosa qua allora intanto per cominciare gli attivisti di Roma Algonin hanno fatto sottoscrivere un patto ai candidati dalle amministrazioni delle comuni di Vicenza ci ci sarà cattolontaggio tra due candidati non faccio i nomi uno di questi ha stato scritto il patto che si impegnerà a bloccare questa base un altro non la sono scritto perfetto hai altre cose da dire ma è una cosa che è meraviglia grazie a tutti noi con la decisione siccome le cose vanno precise dalla base dai cittadini con dei referendum dal basso non si può fare una cosa e ti dirò dopo ai cittadini quando hai iniziato i lavori devi partire dal basso col tuo comune dei due confili comunali per discutere con i cittadini prima di fare qualsiasi cosa stiamo con voi ciao grazie ci sei ci sei ecco di voi ecco di voi ci sei con i loro mezzi limitati stanno mandando il streaming questo venimento noi siamo in diretta in tutto il mondo in 50 città del mondo in 50 città città vittoriale segno che le vittime a te adesso credo che ci sia il tuo catto telefono vorrei leggerli due cose che è vorrei leggerli due cose scusate io non sono abituato alle cartelline poi poi una cartellina allora allora parlerei un attimo di una cosa dovevo venire qui una grande signora una grande signora che si chiama Clementina Caponeo Caponeo si è permesso di dire di un'intercettazione telefonica dove si parlava e parlavano certi personaggi che sono ancora lì perché nonostante l'80% di persone che sono andate a votare quindi i 20% non ci sono andati nonostante non dirino fuori ancora i numeri delle schede annullate bianche restinte che ve l'ho dito io ve l'ho dito io sono quasi 5 milioni di 15 milioni di italiani su chi importa non sono o hanno un uomo o non sono andate a votare sono il terzo partito italiano italiani e mi chiedono in campagna che l'altro secchio si è mangiato la schede è stato denunciato perché io non lo so forse quando la schede sarà un risulto classico da fine l'inquinamento di Angelo dunque abbiamo riproposto altre persone che ci sono sempre non finiranno mai le due legislature che proponiamo noi con il mese dopo di settembre non ne parlano neanche due legislature sono 8 o 10 anni insomma che Gasperi che è diventato il più grande statista della nostra storia le Gasperi ha fatto 8 anni di politica 8 non 40 bene invece che ha fatto 40 anni Cassino Anglovolo Cassino Cassino Anglovolo è sua moglie e lui non chiama la Presidente come mia moglie dice la signora come ti chiama la moglie che si chiama 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 pace nuovo lei li chiama trovo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info. www.mesmerism.info. Stoic! Qua pagina? Sì? 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 C'è un'esercizio, c'è un'esercizio, un'esercizio, è un'esercizio. Capitolo il nostro canale, è un'esercizio. Il Grözio Dio è un problema che non si avviene a parlare di questi anni. Grazie, grazie. 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 Questo era un'occhiaia, quindi ci sono i secondi. So, questo era un'occhiaia che era un'occhiaia di rim forward, quindi, c'era questo ansa che avando in un'occhiaio che è stato e poi è stato fondamentalmente un giro che è stato, quindi io sono arrivati in un'occhiaio che fa presentare a una crisi di poture, che si era un'occhiaio, e io ando in coinvolto per andare a fare l'occhiaio di QTSS e anche io ando in un'occhiaio di QTSS e non ci sono delle città di QTSS che non sia che allora dentro di Gunner e cosa che ha avuto giocato fatto la felice Pag. 2 Grazie a tutti. trigiamo di essere rall informationali di fare il migletto, il migliorbio strutturale per solo strumento Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Buongiorno. Buongiorno. Grazie. 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 che molti pensavano che la Palagno non avesse neanche il certo culturale tra l'altro. E invece ce l'ha, ce l'ha, il certo culturale a Palagno non ha un nome, tu vai e ti dico, hai un brutto e te lo vanno. Però, non adesso ce l'ha sui rumeri, ce l'ha fuori rumeri, non c'era. Adesso vedi, 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 tutto sui rumeri, la l'Italia è con i rumeri. Adesso c'è stato scritto che Surchia, non è che Surchia, quello che si è intascato è il bustarello, che ci ha fatto i soldi nostri dall'altro, che è un ministro del suo stesso governo di loro, hanno scritto che Silvia ha lontani parenti romani e pare che si chiamava Silpiù, però quello che mi ha cambiato con l'amore, l'altro giornale è libero, ma io dico che tra l'altro metter nome libero a un giornale così e mi vai a chiamare puttana Fornigoni, che senso? Ah no, è male con questo, è il vento, però sappiamo anche che i giornali arrivano dopo, no, i giornali adesso ormai purtroppo sono in ritardo, non serve a niente un quotidiano, no, che vai a dire notizie, la televisione e i giornali non c'avano altro che ricontare quello che i politici hanno detto in televisione la sera prima, no, e allora la televisione però c'è il mezzo tecnologico per dirti la verità, ce l'avete, no, tu guarda quando apri un studio nuovo ai giornali, no, e gli dicono, oh, abbiamo qua una storiania bellissima, tutta andata di vetro, è prexica, ah, ah, c'è tutti quanti i monitor che ti correggono, ti ho detto, ho detto, ho detto, no, che ti rendono la modiglia, no, convinti che la tecnologia possa sopravvivere al materiale umano, di che è impossibile, no, vi faccio un esempio, l'alta definizione, che si parla tanto, l'alta definizione, Sky ha fatto il primo canale di alta definizione, ha capito? l'alte definizione, ha capito? Abbiamo fatto l'alte definizione, qual è il primo film che sta in attraverso in alta definizione? Paparazzi! Paparazzi! Ma se tu mi trasmetti ad alta definizione, una merda, privato una merda, la prima è solo più definita! Paparazzi! Ma non di tecnologia, non sono felice, le puoi imparare! Però, poita! Tu hai il primo! Hai detto, ma non sei, stai a tornare la casa? Stai a tornare i miei, stai a tornare, 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 stai a tornare! Ci sono un po' del culo! E dopo, sicuramente, vuoi capire, stai a tornare, stai a tornare, stai a tornare, stai a tornare! E un uomo ha detto, ti l'hai, ti l'hai, ti l'hai, ti l'hai! Io, con i telegiornali, forse, faccio capire, capire, i telegiornali, perché, ovviamente, alcuni non si capiscono, per esempio, studio aperto, più non riesco mai a capire quando è studio aperto che quando è in griglia soppi. Perché sono umani, no? Capito, ho capiato qualcosa. E proprio, e il testo è anche drammatica, no? Ma c'è un'ultima cosa che devo dire, perché adesso tra un po', io lo voglio mandare su questa ferita che non sarebbe giusto perché non si vede a piangere anche più, no? Il PC4, il vento della schiena dell'interno, no? Io rispetto a TV4, però una domanda me la continuo a porre, ed è una scommessa per il futuro. Si consumerà prima la lingua del sacco o il pulo di loro? Questa è la domanda. Ciao! Ciao a tutti! Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Bene, allora, ora c'è, perché noi stiamo propensi sempre a distruggere, a dire nuovo, a distruggere, invece adesso quando fanno conosce una persona, si chiama Coschini. Coschini è il coordinatore, il coordinatore dei comuni di Prucci. Alcuni comuni si mettono insieme e realizzano cose straordinarie, non è una cosa differentiata, nel ciclo dell'acqua, per arrivare a mangiare il cuore, facendo di l'edilizia, facendo collettività con MyMax. tre minuti per evitare cose che sono rinisciti in questo momento a realizzare i comuni incertiti da questa organizzazione. A te la parola, grazie. Grazie, grazie a tutti. L'informazione libera è importante, perché l'informazione oggi parla solo di inceneritori, di grandi opere, di centrali, nucleari, di tutte queste storie incredibili. In realtà non vi parla mai di amministrazione, io sono un vostro dipendente, sono un assessore a Colorno, in provincia di Parma, che si legge insieme all'interno dei comuni italiani e ha fondato l'associazione dei comuni virtuosi. Sono uscito in Italia, andate da guardare, facciamo un sacco di attività, nei nostri comuni non si può costruire se non secondo i criteri delle distinzioni energetiche. Le case da noi si costruiscono con i certificati che ci c'è una energetica. Quindi un cittadino sa prima di portare una casa quanto e come, da un punto di vista energetico come la casa consuma. Nei nostri comuni non c'è bisogno di insinveritori perché siamo l'80% della raccolta di carriziata e soprattutto abbiamo attivato dei progetti per la riduzione delle rifiuti all'asporto. Vediamo dei cacchigli da spina, i pannolini lavabili, abbiamo messo soltanto l'acqua nel supermercato e abbiamo solo l'acqua del rubinetto che è più controllata, più buona, più sana e più inquinante di quella che era popolare al supermercato. Nei nostri comuni i cittadini si muovono il meno possibile e se lo devono fare ultimamente nei mezzi pubblici lo fanno attraverso il pedibus, il bici, il car sharing, il car puri, tutti i progetti che sono già conosciuti a gran stampa nazionale e finire che non conoscono. Nei nostri comuni ed è una cosa più importante, i cittadini partecipano, non vengono una volta di singola e dare una mettere una croce su un nome che quasi sempre, sempre lo stesso, appartezionano attivamente alla vita del territorio, dei quartieri, delle frazioni, portando idee, portando progetti e molto spesso sono loro che si tirano dietro dall'amministratore virtuoso, con i pubblicati attristali, potenere il commercio così vitale, le banche del tetto, quindi io oggi vi ringrazio questo, www.comuniliartuosi.org Grazie a te e grazie a tutti voi. Grazie. E cosa si possono fare? Ora, non rispondo del mio atteggiamento adesso, perché quando ho scritto questa cosa qui mi è venuto un po' il magone, continua a venire nel magone. Sì, 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 no, quindi il bene non lo cassa un po' la voce, vedete un po' di ombra. Adesso mi pregherei di, no, di, non posso brigare di queste cose. Non voglio sbagliare, quindi, 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 quando 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 un operario muore i politici di gesto e di sinistra di 100 stigliani quando un operario muore domani provi cosa è il retto o l'esco. Quando un operario muore non è il proposito del buono i cambi dalle indizioni ma anche un sopravvissuto della pizze in grado. Quando un operario muore il giurso e laborista in chi lo dice da noi manca la cultura delle regole. Quando un operario muore il Presidente della Repubblica soffre e auspica in televisione. Quando un operario muore ma lui dice non è colpa dei governi perché le leggi ci sono. e quando un operario muore è il suo parola della legge 30 del precario dei capi che subiscono di della legge del padrone e degli istintori luoghi altrimenti vai a causa. Quando un operario muore oggi il castiglio ed alena diventa lingua e venti lì. Quando un operario muore è il padrone che ha messo il soldi da parte. Quando un operario muore la vedo dai figli finiscono in mezzo a passata. Quando un operario muore i sindacati richiarrano uno so che lo possono regalare le età di due ore. Quando un operario muore la colpa è che l'incasso se l'è cercata. Quando un operario muore la colpa è che il gestivo militare per l'insicurezza finiva licenziato subito perché precario. Quando un operario muore è un assassino quasi sempre. Quando un operario muore faceva un laborismo doveva succedere. Quando un operario muore si dà un incentivo alle aziende che dividiscono gli incidenti e non si chiudono quelle che si perdono di male. Quando un operario muore è perché la sicurezza è troppo onerosa per la politica industria. Quando un operario muore è un fatto di indice qualcuno ci ha guadagnato di sopra. quando un operario muore si faceva un politico campare a cent'anni. E' perché per parlare di operai non servono crisi, catalisti servono di operai ma non servono di operai abbiamo uno che è un uomo pazzesco e completamente pazzo mi manderà 50 lei al giorno con un operario ed è un salvo del ciberspazio fantastico. Fantastico, tazzoni che ci diranno altre cose sulle morti e sui lavori, grazie di essere venuti, tanzi amici. E' da circa di anni che insieme a due miei amici di Reverezzi e Pupinante Amati Mauro stiamo battendo una battaglia e che sfiduano drasticamente le fortuna e le morti su lavoro. Abbiamo scritto praticamente a i giornali, a tutti i giornali, a tutti, che abbiamo detto già, i giornali, i senatori, il senatore della Repubblica, che ci ha risposto una volta, assenso la casa però purtroppo poco di un'altra è cambiata. Dopo la strage sul lavoro della fissa truppe Torino, dove sono morti così da 7 operai, ci saremmo aspettati da parte del governo poi in relazioni con te, per firmare queste stragi un troppo così non è stato la prima cosa da fare era sbloccare le assunzioni le vertici della pensione dell'Ase che sono 1.150 in tutta Italia con circa 100 milioni di aziende a controllare chiaramente se le quessero controllare tutte ogni azienda c'è anche un controllo ogni 20 anni chiaramente mai il suo prezzo però il ministro Lodiano che contrasta le fortuna e le note di lavoro ha assunto 1.411 ispettori del lavoro la cui maggior parte sono ispettori amministrativi del lavoro che ci offriranno solo di valorizzare il contributo di là cioè la primaria funzione dell'ex ispettorale del lavoro ma mai di sicurezza su lavoro bisogna fare la legge un tipo a controllo perché purtroppo 70 visi sull'azione se ho una legge dello Stato la 8.3 del 1978 che la dà in mano da ben 30 anni alleate l'ispettorale del lavoro ha solo una piccola verga per quanto riguarda i rantieri con il DBCN del 1997 però deve sempre travisare gli altri che le fondamenti è un pedente purtroppo nell'azienda manca anche la cultura della studenti di lavoro sia nel lavoro di lavoro che nel lavoro di lavoro ecco perché la studenti di lavoro è già disegnata fin dalle scuole di età in cui si fa in strada perché i studenti di oggi saranno i lavoratori l'intenzione di domani e non puntele con una donanda ai cittadini quanti di fortuna e quanti su lavoro si lavoreranno ancora perché si faccia uno sciopero seminale più autore con manifestazione d'asta dalla bocca quando la cosa straordinaria la cosa straordinaria si è messa a me la rendo un po' presa la cosa straordinaria che io ho visto attraverso il mio amico architetto che si è la Renzo Piano un costruttivo interentivo e un programma diciamo che è un conto e sullo seto diversi allora i posti erano preventivati i posti erano preventivati i rischi erano preventivati tutte le cose di un lavoro che può arrivare nove anni dieci anni e dentro questo questo piano questo consentivo del risultato e il risultato e il risultato erano anche stati fisicamente stati fisicamente stati fisicamente previsti 24 morti sul lavoro in media si pensava che un profilo statistico potrebbe essere accettabile con 24 morti per fare un conto sullo seto in un lavoro così complicato pericoloso di dieci anni si prevede già qualche cosa che si inserisce già nel preventivo in qualche tempo allora io mi sono andata a prendere un preventivo mi sono andata a prendere perché sono curioso mi sono andata a prendere e non preventivo che un aeroporto fatto da Reggio Piano a Chioco in Giappone dove un cantiere di 10.000 giapponesi hanno lavorato per 12 giorni per fare un aeroporto sapete perché ci sono state le morti ne ha anche una mi direi che loro sono i giapponesi che i giovani non si ammazzano da solo comunque adesso la verità è fanalissima la verità la verità che propongono invece per la vostra città sulla Pau sull'altra velocità è una cosa è veramente un grande incartesimo è un grande incartesimo dovevano essere qui per incendere il direttore di Torino di Milano parliamo di di gente che sa parliamo di posti che sono criti già adesso al chilometro quadro rispetto a un altro velocità quindi francese spagnola noi facciamo l'altro velocità con il 95% dei biglietti che si strappano la fotografia dello Stato perciò per i viaggi di 50 km noi che vogliamo mettere i camion sui treni e poi i treni che pesano 4 volte un treno normale che sia a lungo 1500 metri che passano 300 treni a 300 l'ora ogni giorno sarà dura sarà dura e per tutte le previsioni sui cari commerci e sulle sposte dei commerci sono false sono rigorosamente false sono stati confiati i preventivi sono stati confiati i problemi di scambio e il territorio 5 da Ucraina alla Turchia spararono la mozzarella rappresenta allora passanturo la mozzarella nessuno parla di logistica metà dei container metà dei camion metà dei nasi metà dei treni che girano oggi in Italia sono vuoti sono vuoti non possiamo far girare i camion pieni e li vogliamo far girare a crescente allora su un te però i dati più precisi che arrivano ai cittadini i cittadini che cominciano a ritornarsi a mettere sui comitati a socialare sifre a spugni a dare degli ingegneri che vengono qui a cittadini dei dati e sono ingegneri che mentono mentono perché sono pagati profondamente da chi fa gli appalti e di chi fa i lavori allora siamo sul tanto vi invitate un nuovo passo venite qui prendi una parola ciao beppe grazie mi senti bene ciao a tutti ciao a tutti e ciao a tutti allora ragazzi grazie a Beppe che l'ha giocattata e vi voglio dire che effettivamente qui è molto bene essere per una volta a spiegare le cose vere quelle che non vi dicono i giornali e i telegiornali perché ha ragione per te ricordo bene sui giornali tutti i giornali non passano e questo è il problema che bisogna fare qualcosa proprio come si diceva prima quindi quel qualcosa è anche l'evento perché male per dire per il tuo ma soprattutto per dire quello che a noi interessa che tutta questa propaganda mediatica marchellante ipnotizzante continua dei giornali della tv del tc3 dei nostri amici del tc3 sono una cosa vergogliosa perché rascondono i dati i dati sono diversi i dati dicono che non c'è bisogno di una nuova linea che basta sistemare la vecchia per 30 anni non c'è bisogno di nulla di sicuro e le merci stanno scendendo perché non c'è finito allora io vi voglio solo dire questo il discorso del pitti 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 tutte le sere ecco della vecchia primo palazzo quello è il discorso vero il marchellamento incredibile che noi dobbiamo oscurare lo possiamo fare in due modi spegnendo i televisori ma anche in altro modo chiaramente non comprate i giornali che raccontano le protole ma assolutamente in un altro modo guarda noi l'informazione noi ci abbiamo trovato sono tutti i dati seri controllati scientificamente sono i loro dati i loro dati che poi trova e sono venduti per dire che c'è bisogno della linea quando i dati dicono che non ce n'è bisogno si parla di cifre astronomiche che si vanno tolte dalla sanità dalla scuola dalla ricerca noi diventeremo più poveri ci manderanno in pensione a cento anni se ci avviseremo perché se li mangeranno tutti e sono tutti d'accordo ho finito queste ragioni sono tutte centi in un'università un'università ha fatto un'indagine che ogni studente ha cercato di capire se esistono le ragioni del sì è un libro di Antonio Calapati che si intitola dove sono le ragioni del sì bene non le hanno trovate perché se ci sono solo sbocca basta nientali quindi facciamo attenzione quando ci ripetono per troppe volte un concetto senza darci delle ragioni probabilmente vi è troppo una truffa e questa è la più grande che io ci ripeto una pappatoria una trecchia una cosa vergognosa grazie mi ha detto che lo cerco tant'anno cosa c'è avete finito? ma se non è andata in quell'area così fortuna è locivo ma questi giornali non ve lo spiegheranno mai posso solo elencare che lo cemente le principali cose che non vi devono dette cioè che nei governi dell'osservatorio è scritto che la linea corporeale attuale è fortemente sottoutilizzata ma sono 119 domenica al giorno contro i 257 di linee simili in Svizzera che le famiglie italiane ogni anno per il trasporto nel utilizzano la linea esistente per 180 giorni lavorativi anche che 300 come l'esempio di nono in Svizzera che la Commissione europea ha valutato da 60 al 125 milioni di litri d'acqua persa per centromiata nelle montagne a causa dei lavori del Tad l'acqua necessaria è una città di milioni di abitanti per impedirsi e non vi dico nemmeno che nelle montagne sopra Susa il famigliarato lune di Madre la galleria di 64 km vi costerebbe roccia una litera e neanche che se riteranno il musulente tra più e 10 km da Torino estraranno milioni di metri cubi di rocce contenenti a bianco che tantomeno vi dicono che il vento della valle potrebbe portare quelle cose pericolose fino qui a Torino e l'elenco continuo perché non mi dicono che nella galleria ci sarebbero 50 gradi di temperatura con difficoltà di scaro ma soprattutto di raffreddamento e non mi dicono che ci sono ben 33 taglie d'acqua in pressione in torno in torno l'albenia non mi dicono che la montagna non mi dicono che la costruzione di stili di gallerie è un dato ormai assodato statisticamente che il costo di vita umana per un chilometro di queste gallerie è di un morto un morto a chilometro dati ufficiali di interi e vi dicono invece che questa che quest'opera crea lavoro ma non è vero perché noi abbiamo visto che la storia ci insegna che questo presso un giro colossale di soldi e le mani di pochi e il rischio di infiltrazioni della mafia è venuto questa persona che è partare è un ingegnere del corretto è uno degli umani luminari nel senso della logistica è un ingegnere del polipedico è un ingegnere di cartaglia è quello qua è un docente è di dire due cose due cose professore a lei beh in realtà avete già sentito qualche modo sostanziale quello che ha spesso chi mi ha preceduto io vorrei posso dirvi riguardo specialmente l'aspetto della risformazione questa storia che in realtà lo parlavamo di Suse legata in generale al trasporto in Italia le grandi opere o la cosa che contisca lavorandosi dentro e cercando di entrare nel merito non puoi ragionare considerare argomenti è che in Italia esiste la censura sono anni e anni che si parte di questi argomenti ci direi che è favorevole che è contrario si possono contrapporre argomentazioni se i giornali le argomentazioni non compaiono mai se voi vi avrete il gusto di andare a riprendere i giornali i grandi popoliani non parliamo della RAI troverete molta cronica molta ghiacchiera molte parole ma altrimenti mai potete capire che qualcuno è contrario ma non capite noi per che qualcuno è contrario in sostanza questo è il no noi abbiamo una situazione in cui non è possibile in subito di barità confrontare argomentazioni non si pretende niente di più non è che uno abbia la ragione perché funziona però i cittadini sono grandi adulti vaccinati se conoscessero le argomentazioni a favore le argomentazioni di contro su questo come si tratta altre cose potrebbero decidere se c'è ragione un'attività questo non deve succedere voi avete degli organi di informazione che sono organi di propaganda la rete è prima ma sostanzialmente anche in grado di via si tratta di propaganda censura strettissima e attenzione che non è la democrazia l'informazione fondamentale della democrazia perché non c'è solo un'amministra nell'attività dell'informazione noi non abbiamo a che fare con un clima democratico abbiamo a che fare con un mercato ma per di più è un mercato truccato perché anche il mercato c'è anche regola questo è un mercato truccato e di nuovo soltanto propaganda in un mercato truccato la democrazia è un'illusione è un spettacolo è in effetti quello che voi potete trovare normalmente lo spettacolo il particolare non ne trovate mai la c'è stato siamo siete siamo tutti minorenni capaci qualcuno ci deve guidare quindi la soluzione si viene sempre detto qual è ma qual è il problema non si viene detto quasi mai ora questo è un motivo sacrosanto per abbinare secondo me il tema dell'informazione con la giornata della liberazione e se non ci si libera di questo clima di questa situazione siamo tutte comparse in uno spettacolo in cui le decisioni sono prese da chi sa qui per chissà qual è il motivo sicuramente non è un'illusione questo è quello che io ho imparato occupato di molti anni dal punto di vista tecnico non dal punto di vista ideologico tra l'altro questa è la missione che io ho imparato grazie 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 sei stato meraviglioso grazie grazie allora allora adesso ogni tanto un blog da voce a chiusa una voce e magari ogni tanto qualche cerchiamo di attraverso la vostra generosità delle collette creiamo dei fondi ma da 2 euro 10 euro ognuno non passa le proprie possibilità e riusciamo ad alleviare più o meno la situazione di di qualche persona magari sconosciuta al più la storia breve è questa Cristo si è fermato a capanne che le droghe sono vietate in quasi tutta l'Italia tranne che il Parlamento certo già deputati ministri tipo Nicicay oppure vi ricordate il ministro Colombo un signore il galantuomo, gli 80 anni che li trovarono nel baule e le rodo un chilo di coca e lui disse è per la terapia, è per la terapia degli enologi, ti dico così, io non so da che parte tirasse la coca o l'ombra, tutto è fatto bene, bene, è un delitto, ti fa un uso di d'asciscere, è considerato un delinquente, allora questa è la storia di un signore, è la storia di un ragazzo che si chiamava Aldo Bianchino, Aldo Bianchino è stato arrestato per la coltivazione di tavola indiana e scorto, cioè aveva, era falegnale, viveva con la famiglia e il figlio che sono qua che mi vuole presentare, è finito in un obiettorio proprio che sono questa cosa, arrestata, l'incarcere di un capanno è stato pescato, il dettivo regale ha riscontrato 4 raccobili cerebrali, prego che mi sta rotto, due postole fratturate, lascia la moglie di un figlio, aveva 44 anni, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho detto mai, non ho fatto male a questo, cioè sua moglie e sua figlia, siamo in punta e venuti, abbiamo cercato di dare una mano e di stare vicino, eccola qua, la mamma, la moglie di Aldo, continuiamo, di qualcosa di più. Grazie. Volevo dire ecco, noi abitavamo nell'Apenino Ombro Marchigiana, in un posto assolutamente lontanissimo, dove praticamente il nostro primo vicino sarà a due chilometri, con mio figlio di 14 anni e la mia mamma di 91 e Aldo, che era una persona estremamente mite, non beveva neanche vino, figuriamoci che tutto che era via Montezio, e praticamente niente, una mattina il 12 ottobre siamo arrivati, la nostra porta era praticamente aperta, siamo arrivati in sei, come se avessero dovuto, non lo so, scontare quali porte blindate, e lui molto, come dire, come un agnellino fiducioso del fatto, cosciente che non è una cosa legale in questo paese avere una coltivazione di erba, ma si è mostrato collaborativo, ha detto sì, è per il mio uso personale, se non che ci hanno sedacciato tutta la casa, ci hanno portato via tutti e due, lasciando un figlio di 14 anni a mia madre di 91 da soli per tre giorni, e la mattina della domenica sono stata chiamata a scendere, io pensavo che mi fosse successo qualcosa appunto a mia madre data la sua età, e invece abbiamo cominciato a fare domande sempre più interessanti circa se il fatto se Aldo soffrisse o meno di cuore, se aveva degli esperimenti o robe del genere, insomma praticamente in tre colloqui differenti, il primo alle 9, un altro alle 11 con il direttore dello stesso carcere, e un altro a mezzogiorno, mi veniva detto che ancora i medici dell'ospedale dove era stato portato non avevano telefonato per far sapere le sue condizioni, ecco invece in realtà era già morto da un pezzo, il suo corpo è stato ritrovato, buttato per terra, nudo, nudo, solo con una manietta addosso, per un mese l'hanno sequestrato anche il corpo e per un mese hanno frugato dappertutto nel suo corpo, non per cercare la verità, come apparentemente potrebbe sembrare, ma perché disperatamente cercavano una ragione, una doppa a colori da mettere a questa morte troppo scomoda. Dopo, sono passati sei mesi, il PM a cui ho chiesto mi dica cosa devo dire a mio figlio, fin dall'inizio ho detto signora farò un'indagine a 360 gradi ma non le garantisco che potremo arrivare mai ai pontevoli, lui era in una scena di isolamento perché qualunque persona viene fermata oltretutto incensurato, qualunque persona viene fermata prima che venga interrogato dal giudice non può essere messo a contatto con altri detenuti, quindi è un crimine che pesa esclusivamente su quella istituzione, ebbene il PM oltre alla Polizia di Perugia ha anche dato la facoltà alla Polizia Penitenziaria stessa del carcere di Camande di svolgere le indagini, diamo a Dolindo gli indagini della strage di erba, dico io, più o meno il paragone è questo. Non ci rimane niente minimo. Dico, Aldo non ce lo ritarà più nessuno ma la sensazione, immaginate, magari c'è qualcuno, sicuramente non tutti si faranno una canna d'erba, anzi più è al contrario. Va bene, però, però voglio dire, chiunque non saprà un voto e un amico di completare il caso mi sembra possibile, mi sembra giusto e non ci sono disposte dopo sei mesi, anzi il PM, ha chiesto l'affiliazione di questo caso. Sì, perché sarebbe morto di morte naturale, il distacco del fetaco con una lesione visibile. Io ho avuto anche lo stomaco di guardarla, questa autopsia a un certo momento. praticamente morte naturale, da solo gli succede di tutto e va all'interno del proprio corpo, mentre invece, e questo ve lo voglio dire, i primi medici legali con cui io ho parlato mi hanno detto che questa persona è stata uccisa con dei colpi dati scientemente con la volontà di uccidere ed è una tecnica militare mirata a distruggere gli organi vitali interni senza lasciare tracce esteriori. Questo, ragazzi, a voi tutti, io vi ringrazio di essere qui perché insieme a Bettegrino e a tante persone che ci hanno contattato, che non ci hanno mai conosciuto, ci hanno fatto sentire meno smarriti, meno soli, perché è incredibile quello che succede in quest'Italia. Grazie mille. 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 Ripetito che la mini coltivazione domestica di Canapa non costituisce reato se non si è sostanza nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale. Quindi abbiamo un'altra morte inutile e un'altra morte dalla quale trarre una lezione cronoma. Bene, adesso c'è una piccola diretta di nostri amici e dato che siamo in tutto il mondo non possono raccogliere le firme a Madrid, per esempio, ma a Madrid stanno facendo un volantinaggio, stanno facendo conoscere agli spagnoli la realtà e la verità sull'Italia e ci stanno facendo conoscere da Madrid. Ecco il collegamento. Basta la vista! Andale, andale! Andale, come si dice, va a far fuori il Pagnole, no? Andate, se stanno prendendo i nostri amici, le matricas, diteci qualcosa, come siete, parlate. Aspettando di cercare di fare qualcosa, anche noi, anche noi che siamo con un tempo nell'Italia, però quelle notizie arrivano. Bene, che notizie vi arrivano? Eh, arrivano le notizie di... delle varie cose che fa per gli scorsi, di quelle che fa Prodi, di quelle che fa per gli stroli. Avevano il simbolo di un'Italia che è solo pizza, mafia, mandolino... e stiamo perdendo tutto il più stito. Tante volte vi vergognerete il lavoro, tante volte vi vergognerete il giro in Italia. Noi cercheremo di non farti vergognare, cercheremo di cambiarlo a questo Paese in modo che non dovreste più andare a lavorare lì. E magari il governo è dietro, la prossima mano! Basta, la risposta! Aspettate! Sì, senti, senti, voi vi dire una cosa. Qui stiamo accogliendo le firme, però il Consorato non ce le sta facendo vittimare, perché si stanno negando a mandarci i priti secondo quello che prescrive la legge, quello che prescrive la legge del referendum. Abbiamo avuto un sacco di problemi, non solo noi come l'ITAP qui di Madrid, ma anche anche l'ITAP internazionale. Quindi per piacere cercate di... Cercate anche tu di aiutarti, perché qui ci sono molti italiani, ce ne sono 70.000 che fanno resti molti italiani, cosa da molti di più. E stiamo tutti quanti... Facciamo tutti quanti il sangue amavo, vedendo quello che succede. Quindi cercate anche tu di aiutarti. Ti abbraccio, cercheremo di fare il possibile. Dai, cercate di... Basta l'amore, basta l'amore. Allora, quando chiede il pallone di me qui, al filo nostro, stavate che prende un ospite, avevo ospite. Dopo domani sono lì. Allora, adesso arriva un ospite straniero, un docente americano, che è docente di chimica, di tossicologia, San Francisco, qui prima i comitati del BK hanno parlato di inceneritori, vorremmo farne un altro qua inceneritore, magari di stilista, un inceneritore alto, bellissimo, magari colorato d'azzurro, con un ascensore, per portarci i bambini sopra, sopra il cammino, per vedere l'alto della molla antonelliana, per vedere Torino. Sarà, la verrà da tutto il mondo vedere i vostri inceneritori. Invece il inceneritore è un bloc, è un incantesimo. Li fanno solo perché derubano a cittadini che non sanno dalla bolletta dell'energia, il 7%, dal 92% hanno rubato 52 miliardi di euro, depistandoli invece che all'energia rinnovabili, all'inceneritore e ai petrolieri, aggiungendo una parola alla legge, assimilate, ecco come ci prendono per il culo. Noi non sappiamo mai le cose. E allora, l'immondizia di Napoli, cari signori, l'immondizia di Napoli è il museo della modernità, è quello che saremo noi tra un po'. È stata un'emergenza procurata a camolino quella di Napoli, procurata da una banca, da delle banche e da una società votata in borsa che si chiama Impregnino S.P.A. le banche da Brussotti a degli industriali per le pezze al culo, perché le banche sono garantite dai soldi nostri, questo è il giro. Ma mentre San Francisco, mentre San Francisco, San Francisco, non lo, San Francisco è al 60% di una cosa differenziata e dentro il 2012 arriverà al 70-80% perché tende come tecnologia a rifiuti zero. E rifiuti zero vuol dire non costruirli, non fare il secondo, il terzo imballaggio, non fare cose un'gecchietta, fare... è un'apocalisse della tecnologia. Non farne, o fare le cose in modo che si possono rinunciare, riaprire, rinunciarne nei pezzi, ripalarne. Questa è la sfida che dovremmo fare per i nostri figli e i nostri nipoti. Non buttare dentro un inceneritore per respirarci la merda, perché se la respiriamo la roba che buttiamo non sparisce nulla. Allora, signori, vi presento a questo professore, è straordinario, gira, solo con qualche piccolo rimborso spese, non vuole onorari, non vuole caschette, come licenziati veri, non vuole essere pagato da nessuno. Viene e vi dice due cose su un posto zero. E in più di zero il professore è l'annuletta intervistale di New York, Paul Connett. Eccolo, Paul Connett. Tio Vigitla Diabolo Brucio. Vediamo questo pianeta, come se avevamo un altro uno per andare. e non avevamo nessun altro due in realtà. Quindi... Quindi il signor Busch che non ci sia un altro pianeta. E molti di noi in America vorrebbero che andasse subito. E prendere la nuova Capistola. La nostra mia battaglia è combattere il consumo e il facile uso e gesta. troppo consumo non produce solo una crisi locale, ma una crisi globale. L'industria americana è che più consumiamo, più siamo felici. e la realtà è che più consumiamo, più diventiamo grafici. E più produciamo. E c'è un cartone che riuscissimo a provarlo. pinchare... Treasure... Esa è quellaísima. Esa è quella... Incenerire vuol dire bruciare, buttare al vento delle materie che sono importanti che possono essere riciclate. Stiamo bruciando il materiale più riciclabile nel mondo che la plastica. E stiamo bruciando anche il secondo materiale più prezioso per il riciclo, la carta. L'incinerimento è un spreco di energia. Potremmo guadagnare 26% di energia se non bruciassimo la bottiglia ma la riciclassimo. E usare degli incidenti vuol dire bruciare, strecare la possibilità di combattere l'espagamento globale. Come potete vedere, utilizzare il compostaggio, utilizzare il materiale riciclato può produrre il 46% di più rispetto all'energia che si ricava dalla plastica bruciata, delle materie bruciate. L'incinerimento è anche un terribile investimento finanziario perché la maggior parte dei vostri soldi vanno bruciati, vanno qui lontano dalla comunità del posto in cui vivete. Mentre se si segue il progetto zero rifiuti e si ricicla, il lavoro rimarrà l'interno della comunità. Si può che vedere la porta? Eccola qua. Il più talento in generatore del mondo. Qui hanno speso 300 milioni di euro per costruire questo incineritore e ha prodotto solamente 80 posti di lavoro. Mentre in Nova Scotia, in Canada, con la raccolta porta a porta, hanno creato 3.000 posti di lavoro. In United States, we have not permitted a new incinerator since 1995. This is a gate industry. Morte! Venito! Gate! Finito! E' dal 1995 che non si costruiscono incineratori negli Stati Uniti. Sono morti, sono finiti. Il dottor Veronese è andato a tutti i giorni dicendo che se lo zero rischio di cancro, è paralo zero con l'incinerimento. Questo non è scientifico. Non è neanche considerevole. E' anche irresponsabile. E il dottor Veronese dovrebbe uscire un plazzo e dire la stima a tutti. Anche se l'incineramento fosse sicuro, non ci avrebbe mai senso. Perché un cartello non ha senso spendere così tanti soldi distruggendo delle risorse che potremmo condividere con i nostri figli e con i nipoti, con i stili e i nostri nipoti. Andiamo con una cancola. Finiamo con una cancola. E' vero! E' vero! Sì, vedi la cancola! E' vero! E' vero! Io la cancere in inglese, sì. E poi puoi cantare in italiano! E poi la cancere in italiano! Sì, tutti lo conosci! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ciao a tutti, la cazza è bellissima, è impressionante, qualcosa di incredibile, questa aggregazione senza l'informazione ufficiale, in questo modo l'abbiamo battuta oggi, totalmente. Una cosa che potremmo dire qui da Torino e su Napoli, volevo proprio affermarvi che Napoli è una città meravigliosa, semplicemente, dove c'è un capitale umano di sorrisi, di guardi, di gente con una passione, che in questo momento è in Piazza Dante, che è stata bellissima e da stamattina ad ora sono state raccolte 10.000 film e da un apprezzo fortissimo a tutti i ragazzi che in questo momento stanno a Piazza Dante, sapete quanto di cuore. Oggi parliamo di informazione, perché è un punto centrale, se non c'è l'informazione non ne riusciamo a sapere, a conoscere, non possiamo difenderci e di conseguenza non possiamo capire le cose e quindi decidere. Noi non abbiamo più il diritto alla conoscenza. Vi faccio due esempi merosi, perché Peppe prima ha citato una battaglia sull'acqua. Il mattino di Napoli non ha mai parlato dell'acqua, non ha mai parlato del fatto che si stava privatizzando l'acqua. Ma perché? Ci sono dei motivi, bisogna sempre chiedersi perché delle cose, che cosa c'è prima. L'editore del mattino è Cartaggione. Cartaggione voleva entrare nell'appare dell'acqua e i cittadini non dovevano sapere. Quando l'abbiamo saputo, e adesso sappiamo tutti tante cose, ci diamo e non ci ferma più nessuno. E' una situazione che vediamo a Napoli, l'abbiamo visto in tutto il mondo, sui rifiuti. E' una situazione che può esistere e persistere solo perché l'informazione è la colla di vetro dentro il quale vengono tenuti i morti di vetro che sono questi politici. E' lì che dobbiamo colpire, perché quando impaggiamo questa bolla di vetro tutto il sistema cade e nessuno può accettare quello che succede a Napoli e succede con i soldi di tutti quanti noi. hanno creato un sistema integrato di raccolta di soldi pubblici che si spattano ogni giorno costantemente. Tutti quanti sono i soldi di noi cittadini italiani. Adesso che lo sappiamo non ci serviranno più. Un ultimo esempio, il 25 e bravo, magari molti di voi lo sanno. Abbiamo organizzato con l'amico di tutti, tutti i dati anche di pari dell'estero, il giorno del rifiuto. Il giorno del rifiuto perché Napoli sta tenendo una gran voce di reciclare, di usare, di fare raccolta differenziata. Napoli la vuole fare, loro non la vogliono fare. Sono venuti tutti i giornalisti del mondo, tutti, compresi gli italiani. Siamo arrivati con DEP e sembrava la fine del mondo. 30.000 persone che tenevano una conta differenziata, informazione libera, che si univa a organizzarlo. È qualcosa di nuovo, è un'avanguardia di libertà, è un'avanguardia dell'anima. È un nuovo modo di vivere e il giorno dopo è come se non fosse successo niente. E invece è successo qualcosa. Se tu l'ha detto DEP e prima lo sappiamo certamente qui da qua, lo sanno altri 10.000 a Napoli, 5.000 a Bologna, a Palermo, lo sappiamo. E adesso che lo sappiamo non si ferma più nessuno. E andiamo avanti. E' l'inizio, è l'inizio. Andiamo avanti tutti, tutti insieme. È la fiducia che ci deve regare. È la linfa, è questa. E la rete è una grande opportunità. E lo sprecheremo. Posso dire solamente grazie di tutta questa esperienza che sono stati così grandi di unità. E grazie a tutti di unità e alle persone. È meraviglioso. Andiamo avanti. E veramente coraggio a tutti quanti. Perché oggi c'è da credere in questo coraggio. È una nuova realtà. Grazie. Grazie. Salute a sorella, mamma, cazzo. Fantastici. Ora, per dirvi qualche esempio di torpone della conoscenza che c'è oggi in Italia attraverso i mezzi di comunicazione. Vi dicevo che le cose che non sappiamo sono vere, ma quelle che sappiamo sono similiere. È un vero simile. È un falso d'autore. Per esempio, un modo di fare informazione di quei signori là che hanno portato una parabola che abusivamente mandano i segnali di che informazione poi vedremo. I vari riotta, i vari mimoni, i vari mazza. Vedremo. Bene. È un modo di fare la loro informazione. Un modo di fare la loro informazione. Bene. Allora, si parla di una cosa molto importante. Si parla della salute dei cittadini. Si parla se un inceneritore fa bene o male. Avrete, in popolo italiano, il diritto di avere un dibattito pubblico. Tre esperti che dicono sì e tre esperti che dicono no. Invece, l'informazione, specialmente quella di Stato, perché me la prendo, di più di loro, perché la paghiamo. La paghiamo con un canone. E allora, se l'informazione deve essere così, se l'informazione deve essere così. Portare, illuminare dei tumori che è un uomo da fare, come i veronesi. Metterlo lì e chiedergli all'illuminare del tumore oggi in Europa. Senta, professore, peronesi, che cosa esce da un cammino di un inceneritore? Fanno male questi benedetti inceneritori? E vedere, illuminare nel cancro, l'uomo d'affari nel cancro, il cancro peronesi, il professor cancro peronesi, che fa questo gesto, fa questo gesto e dice che da un cammino di un inceneritore esce zero. Allora, voi pensate, pensate, è questa l'informazione, ma io non me la prendo con cancro peronesi, perché cancro peronesi non è un medico, è un S.P.A. Io me la prendo con il giornalista, che bastava che andasse, sarebbe bastato che fosse andato su internet e avesse digitato Umberto Veronesi.it, fondazione Umberto Veronesi.it, e avrebbe capito perché il mattore Veronesi dice zero che c'era un cammino. Bastava andare a vedere chi finanzia i suoi studi, la sua fondazione, i suoi ospedali, che sono levi, levi, quattro banche, cinque cementi figli e il più grande costruttore di inceneritori d'Europa, che è la francese Deolia, che gli dà i soldi per dire sì. Questa è l'informazione, questa è l'informazione. Poi, poi, un'altra informazione. Allora vincolo l'inceneritore di Brescia, il più grande d'Europa, premiato dalla Columbia University come miglior inceneritore del mondo. È vero, ecco una sì di verità. È verissimo. Solo che loro non si dimenticano di dire che il premio gli ha dato un'azienda che si chiama Martin, che è un'azienda che ha costruito. Bastava Muro! Bene. E per dirlo, e per dirvi quello che succede, per dirvi quello che succede, io nelle mie tourmè, nelle mie tourmè facevo venire questi ragazzi, facevo venire persone e se andate sul mio blog c'è un link, un link dove c'è scritto Bond Argentini. Questo Bond Argentini, se lo aprite, c'è una sentenza, c'è una sentenza del Tribunale di Mantua che dice che chi ha comprato il Bond Argentini e ci ha rimesso il proprio risparmio deve, deve essere rimborsato dalla banca del capitale più di interessi perché è stata una cosa anticostituzionale. C'era la sentenza del Tribunale di Mantua, ma non serve la giustizia se i cittadini non lo sanno. Io andavo a venire nei palazzetti, arrivavano delle persone da me, li intervistavo e mi dicevano lo sa, a me hanno rimborsato perché sono andato a vedere quella sentenza, l'ho fatto copiata, l'ho data al mio avvocato, l'avvocato è legato alla banca e la banca ci ha dato subito i soldi facendoci firmare un documento di non dire niente a nessuno. Può essere informazione, bene, l'artefice, ci sono le persone dietro, vi ricordate che i grandi cambiamenti, nascono dal passo, dà su noi persone più semplici, fanno messamente il proprio lavoro. Guardate che la più grande rivoluzione dei neri americani, la più grande rivoluzione dei neri americani è nata su un autobus degli anni 50 in Alabama quando una signora negra si è ricitata a chialzarsi per dare il posto a un diante. Bastano per le prime cose. Bene. Le prime cose sono una sentenza, le prime cose sono le cause fatte anche da avvocati, da persone che mettono anche a distruzione di loro lavoro per gli altri, non solo per guadagnare parcelli e soldi. Vi voglio presentare questo signore che ha specializzato un avvocato di Mandora, è quello che ha permesso quella sentenza e sta lottando col vero potere mafioso che oggi è in Italia. Il vero potere mafioso, lo sapete di che cosa parla? Sono le banche. Bene, questa signora vince sentenze, fa ridare i soldi di gente che gli hanno disintegrato il patrimonio. Nel caso Parma sarebbe bastato un minuto di un telegiornale che avesse detto e consigliato ai cittadini di non comprare perché era un'azienda decotta e non aveva neanche niente. Ecco quella informazione. Per far sapere gli italiani che c'erano 25 condannati in Parlamento, io ci ho messo due anni, due anni per farlo sapere. Bene. Questo signore gli ha fatto un lavoro, vince le case delle banche, si fa le sicuree dei soldi, ma la gente non lo sa. Ve lo voglio presentare. E' venuto a posta, è venuto qui, si chiama avvocato Bassalle, dottor Bassalle, che vi dirà di un'altra cosa, su come quasi, quasi, centomila imprese, piccole imprese, sono in mano stracciate dalle banche, con i derivati. Bassalle, a te la parola. Grazie di solito, signore, io credo, Bassalle, a voi ho 13 ore di una domenica e comprendo. il mio mestiere è combattere le prepotenze e i poteri. E veniamo da noi. Il potere è vero, il potere è quello nero, quello è il tuo monso, quello delle banche, e qui ne abbiamo qualcuno davanti, il Montepassio, il cui dirigente sono stati governati a sei mesi in percrufa gravata per avere venduto a decine di migliaia italiani un prodotto che si chiama For You, di San Paolo, che taroccava il cavallo della scuderia in fondo azionale Reazione Italia e richiamando tanti risparmiatori che ci hanno lasciato le penne perché loro falsificavano le performance del fondo. Le banche, vi ricordate i sepolsi imbiancati pieni di ogni tutelume, coloro che portano via le case alle ledole e risparmi in alto alle decchiette. Ma tutto questo è potuto succedere anche perché l'informazione è stata complice, perché sono loro che condizionano l'informazione. Se avessero detto che anche Mediolano appartiene allo stesso giro, se gli avessero detto che Banca in Chesa oggi funghi su Don San Paolo è la proprietaria di gran parte del sistema bancario argentino e che quando le cose in argentino hanno cominciato a non andare male la Banca in Chesa si ha proposto e ha aiutato il governo argentino a emettere i bond che poi ha portato qui e li ha venduti a parte voi che è a noi ed è rientrata e quei soldi dei quali è esposti verso il sistema argentino queste cose la stampano le avete e la stessa cosa la stessa cosa è successa nelle panna come Cirio hanno preso i fondi degli spagnatori dei lavoratori di chi li porta tutti i giorni in banca e gli hanno dato i craniotti ai canti e poi quando le cose dei loro protetti andavano male anche lì gli hanno aiutato a emettere le obbligazioni e le hanno vendute al parco vuoi a noi e un milione di italiani si è visto distruggere gli spagnoli completamente ma non si sono fermati lì nella loro marcia pendente a migliorare l'economia italiana perché sono rivolti alle imprese quasi tutte le banche le maggiori banche italiane hanno ideato un prodotto che si chiama SWOP prodotto derivato hanno rilevato dalla centrale dei rischi di quella splendida istituzione che è la banca d'Italia quali erano le sofferenze di questi istituti e sono andati a visitarli le sofferenze che si date le esposizioni i figli le fiduzioni e gli hanno detto guardate voi siete imposti per un milione di euro e firmate questo contrattino che è una specie di assicurazione contro i rischi dell'aumento dei tassi bancari le persone in fiducia hanno firmato dal contratto non si capiva assolutamente niente perché sono contratti complicatissimi che le stesse banche di piccole dimensioni per stipularli devono chiamare tecnici esterni e poi tutti quelli che hanno firmato e si tratta di centomila aziende italiane si tratta di milioni di posti di lavoro si tratta di ricchezza nazionale tutti quelli che hanno firmato si sono accorti che ogni tre mesi che i tassi salissero o che i tassi si abbassassero loro dovevano pagare una truffa colossale la più grande truffa la stanza sapeva io sono andato a parlare con i ministri e nessuno ha fatto niente sono andato a parlare con i giornalisti dell'economia del Corriere della Sera che ci sono scandalizzati hanno fatto le indagini hanno verificato e dicevano che era una cosa incredibile e poi sconsolati mi hanno chiamato perché non ci hanno pubblicato gli articoli perché profumo era nel consiglio dell'amministrazione del Corriere della Sera ecco la libertà dell'informazione in Italia una grande schifezza e adesso ci sono 5.000 aziende con problemi gravi e il problema non è risolto si sta gradando perché quelle posizioni sono sofferenze sulla centrale dei rischi e c'è la gente risperata che non sa più come fare a riuscire questa situazione e allora noi vogliamo giustizia noi vogliamo correttezza noi vogliamo trasparenza noi vogliamo i tribunali che funzionano ma in queste trusse ma dove cazzo erano i procuratori della Repubblica dove cazzo erano i carabitieri quante cazzo li farebbero di più venire allora io adesso vi faccio solo due nomi e vi aspetto il grido di battaglia associazione battaglia italiana Marta Turo governatore della banca d'Italia Vaghi Marta Turo grazie a tutti arrivederci è fantastico è un luogo che si convita nella sua distinzione è fantastico dunque adesso abbiamo il collegamento con un'altra piazza perché arrivano notizie arrivano notizie straordinarie di piazze piena che il collegamento abbiamo con chi? con Palermo 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 quanti minuti siete ecco lui ciao ciao grandi combattenti grandi combattenti parlate parlate troppo si si ti sentiamo di più ciao io venimo benissimo guarda quanto gente Sonia la candidata per la missione delle giuste civiche nostra fantastica Sonia come va come va di qualcosa a tu di qualcosa a tu questa gente ha bisogno di un'informazione libera e io sono con quella più forte proprio tutta quella gente che non ci vuole consentire di sapere di conoscere quello che tu oggi hai dato tutte quelle cose che tu ci hai fatto conoscere e questo è un'informazione all'inizio di un lunghissimo percorso all'inizio andremo sicuramente molto più grazie grazie ciao a tutti grazie di esserci vuol dire ancora qualcosa Sonia grazie 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 sono andato sono andato qualche mese fa in un inservene scusami scusami un secondo scusami un secondo più una seconda poi vieni a parlare poi vieni a parlare tu vieni a parlare tu vieni a parlare bravo 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 allora il discorso sono stato qualche mese fa cosa c'è ragazzi aspetta 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 di che cosa non è potente di ah era una cosa straordinaria che quando parlo di signoraggio hanno ragione non è è un buco talmente enorme che non siamo più se io mi parlo del signoraggio della stampa della moneta ci ho fatto uno spettacolo mi conosco tutti paroliti cianciarelli mi conosco tutti non devi rompere di coglioni a me perché c'è un signoraggio fermata fermata hai ragione ti dico che hai ragione aspetta allora un mese fa circa un mese fa sono stato chiamato da dei agricoltori sardi agricoltori sardi mi hanno chiamato per raggiungere un po' di trasparenza perché cinquemila cinquemila piccole aziende di agricoltori erano in mano alle banche con i debiti che stavano mettendo all'asso le loro proprietà cinquemila aziende di salga che erano stati chiamati dalla regione dalla Germania dall'Inghilterra dalla Francia per selezionare a tornare nella loro terra a selezionare un lavoro aprire delle stelle fare gli agricoltori sono rutenissimi sono venuti giù e hanno cominciato a lavorare per le stelle poi non stavano in piedi sono indebitati e a regione non ha saputo finanziare sono letti in mano alle banche al banco di Sardegna il banco di Sardegna era un'ipoteca del banco di Reggio Emilia il banco di Reggio Emilia che ci sono letto sempre gli stessi c'è uno che si chiama Ceremonini Ceremonini fa carne fa carne da baccelle da pastorale le sue ducche non so che attidenza c'era ma stavano vendendo la vita di 5.000 famiglie salve senza che lo sapesse nessuno e sapete chi c'era con me? sapete chi c'era con me? c'era il più grande giornale del mondo che si chiama New Yorker il giornalista è stato 4 mesi con me ed era è venuto a vedere i pianti delle famiglie vedere come mettevano all'asta le loro proprietà di 6-600.000 euro a 10-15.000 euro che venivano comprate dagli emissari delle banche non c'era speranza sono andato lì ma non sapevo cosa fare io poi ho conosciuto una persona trostra uno che non fa spettacolo si chiama Garmino Sale di Autonomia Santa Garmino Sale allora Garmino Sale è andato all'asta e con uno sguardo straordinario ha detto quattro parole ha detto chi chi si presenterà a comprare alle asche mi rivolgo a questi che compreranno alle asche queste proprietà dei nostri bastoni mi rivolgo a questi rettili rettili a sangue freddo noi saremo qui e li conosciamo tutti li conosciamo uno per uno vuoi rettili a sangue freddo è bastata questa frase che è terminata di uno dino altro così che non si è più presentato nessuno a casa è un po' bene adesso vi presento una persona che ha scritto due libri fondamentali